Ehm, ok. Ma in italiano non si può ammette. Non c'è in italiano. Ah, c'è sta in italiano. Si sente l'audio? Sono totalmente in blind. Sul titolo si può mettere blind e tossa coin to your streamer. Grazie. Bella brocca di papa. Oh, YoungDade, benvenuto caro. Grazie caro. Grazie brocca di papa, grazie per i cinque mesi. Solo per giocatori esperti, per i folli. Per chi ama le sfide. Questa sarebbe facile, normale, difficile, molto difficile, giusto? Io non so quant'è il livello di difficoltà reale. Perché, perché dite marcia della morte? Va bene, Edo. Perché? Che c'è la chatta schermo? Io la prima l'ho fatto... La prima run ha difficoltà massima. Tanto puoi cambiarla dopo se ricordo male. No, ma era troppo difficile la difficoltà massima. Non, ma era troppo difficile la situazione. Quella là come si chiama questa? Yeah, never. sapete a chi somiglia lei in questo video? a quella che ha fatto Hunger Games no, ho detto una cazzata, non c'entra un cazzo no, no, c'entra un cazzo ma chi ha tirato un chicco di sale? il cazzo di magia è che ti fa le sabbie mobili così con le esplosioni? soprattutto quant'è cattivo quel corvo non c'entra un cazzo non c'entra un cazzo non c'entra un cazzo non c'entra un cazzo ma non c'entra l'agraio non c'entra un cazzo ma non c'entra un cazzo e ora non lo trovo divertente Che cosa sono qui c'è? Non è efficace per amicurare, ma per provare a te freddo, è già in giù di mattina. Ti ho promettato a Ciri che siano scegliere con lei. Per cui si fa verso la terra con queste tue le due. so later then see you later ma perché scopa così tanto lui non l'ho mai capita sta cosa ma c'è un filtro per le nudità riga assomiglia un'attrice un'attrice italiana tra l'altro un botto che assomiglia no devo mettere i sottotitoli perché sennò mi incazzo come un mostro usi i sensi di the witch per trovare la chiave della stanza cerca gli oggetti che spiccano bella riga che cazzo stanno parla con gli ennefe ma è nuda voglio stare ancora con te non voglio essere ragionevole hai ragione dove andare da siri ma scusa ma non è già truccata si ma la chiave eccola no dassimo l'imparo non puoi farlo qui non so cosa finalmente un gioco figo ogni volta che porto un gioco si leggo sta frase in chat fa troppo ride sta frase ma scusate quanti witchers ci sono stati? prima di lui chi c'era lui è Gerast giusto e prima di Gerast è C'està trattando i pendulumi, certo? Quanti volte dobbiamo dire? Non trattare solo. Non trattare solo. È solo imbredo i vostri error. Trazci la mia figlia in l'interno. Se vuole pratica, si potrà pratica. C'è l'admito che abbiamo sforzato. Abbiamo sforzato? I've been saying it from the start, Ciri needs a firm hand. Been saying that true. And you let her walk all over you just like the rest of us do. Sa voce! I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. Hellig Monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that. If she is to become one of us. I'll see you below. A proposito. Lo sapete che Netflix deve aumentare ancora di più l'abbonamento? Wrong. Now I see why you were so eager to practice. Strike. È bendata. No. 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 That's right. No. I see. si ma che cosa è? si 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 no, non è un'escrita. Scusa, non è mai avuto. Non è mai avuto. Vesemir ha detto che se si fa, ti farà un pollo di sloig, covered in salto. Sì! Sì, quindi dovresti fare. Voi, noi facciamo con gli altri qui sotto. Sì, dobbiamo rincare la palla? Devo battere lei O devo seguirla A con B ok Attenzione cadendo d'altezza Rischi di ferirti o morire Ma che posso danno a destra un faccio Vabbè da qua ti pare che prendo danno Quanto cazzo devo andare Ho giusto Ma si ma ho glicciato tutto Dove va? Oh no Dezunier ha il fatto Cosa aspettavi? Siri è la figlia che ho ottenuto come ricompensa sorpresa Che vuol dire? Sono un gruppo di individui che si stupano a prova e a modifiche del corpo fin da bambini Ne esistono diversi tipi nel gioco come i witcher del lupo Bella gallavanne Grazie per i sei mesi Non mi piace l'accento inglese E sta zurcazza E sta zurcazza Still you should have asked if But you were asleep uncle Vesemir No Non mi piace l'accento inglese E sta sulla scena Che bisogna viziarla Ma sta sul cazzo perché... Vai! Come non è il doppiaggio originale? C'è un po' che cazzo? Lo sto facendo? Ah ok con un'altra Posso fare il parry proprio Al momento giusto Sì ma se si ferma Se si ferma l'inquadratura Grazie al cazzo che lo faccio Premi RT Quindi Ok Che figata cazzo Vaffanculo Sì ma devi venire qua però Mi ti tiene il punto indicato Basta riparerà la spada Noo morco due Parese mente di Montemario Non ho capito Non ho capito C'è un doppiaggio originale Da mettere da ragazzi Ma Siri Non è questo C'è un po' cercare di trovare ogni ultima scuola per te cosa è? che cos'è? c'è un cadavere dentro? che è successo? che è successo? ma è successo davvero quella roba? perchè c'era Sauron? abbia alzato uomo Milano ho sognato Caer Morhen come si chiama? Caer Morhen ho iniziato nella sala di giustizia a Caer Morhen ero rilassato nel tubo e vicino a me Triss? Yennefer è divertente, non è? non ha mai stato qui sembra più bella che il mio sogno sognò era una cosa era una cosa ero ero La mia vita è vero. Ci siamo trovati. Nel sogno, ho trovato Ciri. E poi ci siamo trainati. Ci sono i giorni. Poi, piccola che dimentico. Mi ha trainato ragazzi che erano più veloce, più forte... Ma nessuno ha la sua caratteristica. Ok ragazzi, il tutorial credo sia quasi finito. Tra poco inizieremo con le scelte insieme a voi. Vanilla, play, Vanilla. Era in danger. L'abbiamo a insegnare di tutto ciò. Wraithi anche. A presto. 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 Che fanno lui? che cosa stai? in questo caso e le ultime difficoltà sono sempre un po' è stato un po' e non ciò è stato un po' la prima difficoltà è stato un po' è stato un po' che è stato un po' il primo è stato un po' la vita tanto la vita tanto nel continente quanto nell'isola skellige dura aspettate breve chi riesce a scampare alla guerra della che flagella queste terre deve comunque fare i conti con i numeri per i mostri mostri hanno una barra della vita e salute color argento sulla testa per di carico che vanno affrontati con la spada d'argento ok questa cosa importante da sapere se non l'avrei mai tirato di più sti cazzo quello che cazzo che non si gira un piscicchio per sempre tenere i punti di adrenalina alcune delle abilità che puoi acquisire di consenzione sferere attacchi speciali che costruiscono il punto di adrenalina quando sei in combattimento punti di adrenalina calano lentamente sentite un attimo siccome lo sta vedendo come è fatta la grafica direi che bisogna spostare delle cose quindi fatemi mettere a posto un attimo secondo eh allora fatemi fare dire fatto bianco colpo va affanculo ok qua non dovrebbe romper cazzo oh peta no no l'ho visto il tutore tranquilli l'ho visto l'ho visto qui ci trascorrono buona parte e ho visto che era per recuperare la stamina alla ricerca di contratti attraversando campi e vallati e scalando montagne per sua fortuna durante i viaggi che era te può sempre lo vuoi chiamare premendo due volte L ok rutilia di merda ma li fa salutare questi bastardi fidi puttana scendi oh scendi faccio due ma non l'ha lootati mi interessa sta roba io bio tutto raga io bio tutto Grazie, Marti. Ha detto che hanno cominciato il livello? Non, è davvero assicurato. La teoria è scoperta. La guerra non è inizia proprio il nostro modo. Abbiamo una parte. Réalmi Nordi. Réalmi Radovids, non lo vuoi? Temeria e Ederna non ci sono più. Radovids ha chiesto di ristrarre le vecchie fronte. Dopo che ha vinto la guerra. Hai creduto? Deve credere qualcosa. Questo è quello che ci rimane. Cosa della spada d'acciaio è importante. Di ferro di argente d'acciaio. Raga, però per avere una 3080 mi sembra che non sia al massimo della potenzialità alla grafica. Che cazzo è? Cos'è? Cazzo è? Cazzo è? Cazzo è? Cazzo è? Aspetta, io ho tagliato la gola, quindi posso seguire le enormi delle tracce di sangue? Sì, è fuori. No, dai. Non sono uno attaccato ai soldi, sono una brava persona. Sì, è fuori. Ci farebbe comodo qualche abbonamento. Sì, è fuori. Posso tagliargliela ancora adesso? C'è l'allenamento in questo gioco cattivo o buono? Si righi Sì righi Anch'io mattia Grazie mille Federico, grazie per dieci mesi Se si può recuperare in qualche modo o no? Lilla e uva spina Che vuol dire cursore hardware? 60 frame al secondo? No Come 60 frame al secondo? Io ne posso fare 240 su sto monitor E' cambiato, vedi raga? E' che vero cazzo Quando il vittorio ne vede le ruote senza cambiare direzione Seguire automaticamente la strada No No vabbè ma 60 per un single player vanno benissimo No Non turbare la guerra Guarda 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 Le guardie non tolera i furti e non saranno contente se non fassi vedere da gente Gli abitanti di villaggi e in città Spesso costruiscono nelle grandi vicinanze delle bacheche degli annunci Segnalate quelle Insieme a trovare contratti e offerti di lavoro per i wish E rendendo inizi eventuali locali N node Sì Sì Poglie Sì 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 E' un po' di più. E' un po' di più dolore. Ciao! Molto. 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 Si. 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 è solo la prima season e washi porta rispetto a chi lavora che cazzo era ma scusate ma cyberpunk ha impietato tutti gli altri giochi della cd project ok i'll not drink with weaver loss freaks no need we're used to it la opzione insegnarate con i cosi fanno accedere alla schermata delle botteghe questa è la quest questa è un mostrami cos'ha vabbè la quest dai ma che dettaglio è hanno gli occhi gialli perché sono perché pisciano controvento ma che l'ha affollato c'è un contratto per il griffon ma la quest del griffon non l'aveva fatto io troppo in un video ah se può fare un cambiamento al titolo tossa coin to your twitcher scusate non to your streamer vaiato quindi posso farla senza ricompensa ma c'è un cazzo quanti soldi c'ho? c'ho 250 euro ma queste sono le carte di Gwen questi cazzi sembra i giochi quelli che facevano su Final Fantasy ma io da magna che c'ho coscia de pollo a rustita basta non lo gioco da completista ragazzi ma ragazzi non mi interessa non so di stare aspettando madonna di un dio non mi interessa di Gwen oltre che ti aiutano alcune parti del gioco è anche strabello ragazzi sapete che adesso sto per comprare le carte solo per non farmi rompere i coglioni da voi? ci credete? è incredibile questa cosa non ci ha più soldi per comprare le carte Eh! Ah! Ah! Ma perchè posso andare a letto con la locandiera? Seri? E una volta che ho sentito qualcosa, non mi ricordo mai. Vieni aiutami! Dai ragà, fai trombare anche me! Fai trombare anche me se mi rinunassado questo. Ma mi vuoi dire, fatti i cazzi tuoi! Sembra un tipo molto rompicoglioni. Secondo me una risposta più aperta potrebbe scioglierlo. Fai' sисcermi qui. Mi percepite una risposta più e cosa? Poi? Che insegna? La prima cosa è il tempo, li rinunò a me. E io non d'ordine. Il era pieno delle sue erano a dire. Voi pensi? Ah, e voi pensi? No, non ha엽י. Di loro venò durante i tuoi. Verre che in via. Salah. E' quello dell'inizio, no? Giusto, quello del video? Va bene, Gibao Cazzatissimo Gibao tu dragao Stanno giocando a Gwent? Dai, davvero i ragazzi possono andare a letto con la locandiera? Ma seri? No, ma non era serio, ragazzi, Gibao Ma può essere serio? Dai, ma come no? Ma mi hanno detto che stiamo a fare tutto in questo gioco Ma non con lei, Pearl Pearl, in generale, dalle mignotte puoi andare Ah, però è Io voglio ammazzare Grifone oggi L'obiettivo di oggi è uccidere il Grifone La mazzone della guerra, ma che cazzo stai a dire? E' una quest' Che figata, davvero c'è? Dimmi dov'è, brutto stronzo Oh Scrivi della guerra, di com'è davvero Sì, ma non mi ha detto dov'è questa tizia, questo fantasma sul cavallo nella valle Va bene, mi hai rotto il cazzo Questa è una dv all'interno del gioco, ma stiamo scherzando, davvero? Ragazzi, io non la voglio... come tocca giocare? Ragazzi, io non ho mai giocato a un gioco di carte in vita mia Non ho mai giocato a Pokémon Non ho mai giocato a Magic Nonostante tutti i miei amici da 15 anni giocavano davanti a me Non ho mai giocato Non ho mai giocato a Yu-Gi-Oh! Non ho mai giocato a Force of Will Mai! Perché devo... ah, ho giocato a Airstom però Non mi è piaciuto Non è centrale, Jebbaron, ti credo È semplice e tranquillo Guarda, facciamo solo una partita Dai, ne facciamo una Così meglio aiutate voi Sì, non lo so giocare Guenta è un antico gioco di carte nanico che simula lo scontro tra due eserciti in battaglia I giocatori sono i generali, mentre le carte sono le truppe al loro comando Io sono il generale e le carte sono le truppe, ok? Inizio io Mano iniziale In ogni partita ci sono con 10 carte pescate a caso del tuo mazzo Questa sarà la tua mano fino alla fine della partita Non pescherei altre carte per ci usare con saggezza Questa è una carta unità E il numero in alto a sinistra indica la sua forza 1, una merda Quindi quando viene collocato su un campo di tale valore viene aggiunto la forza totale del giocatore alla giocata Questa è l'icona delle file combattimento Questa è l'icona che indica in quale fila del campo di battaglia può essere giocata la carta Corpo a corpo, a distanza o a sedio Poi c'è l'abilità speciale Le abilità speciali di questo assediante cadwediano si chiama morale alto E offre più uno forza a tutte le novità presenti sulla stessa fila Le carte clima sono carte speciali Tali carte riducono la forza di tutte le carte di un determinato tipo presenti sul campo di battaglia Compreso le tue La neva bassa, il corpo a corpo La notte, la distanza Perché va bene, non ci si vede E quello che è, la pioggia Ah è vero, ok, vabbè, logica All'inizio di ogni partita puoi selezionare fino a due carte da scartare e ripescare Per ora saltiamo questa parte e andiamo subito a giocare Questo è il tuo lato Ok Durante il turno Il giocatore può collocare una carta al campo di battaglia oppure passare Ogni mazzo ha un comandante Il comandante possiede un abito speciale che puoi usare una sola volta al corso della battaglia Attiva l'abito quando vuoi premere Quando premi A per selezionare una carta dalla tua mano e poi di nuovo A per selezionare il campo da battaglia Va bene, tocca a me Allora io metto Lui, colpo a corpo Il numero a sinistra vicino alla tua icona indica la forza totale dell'attuale forza unità Il numero a destra invece indica la fila corrispondente Ok, al termine del round Al termine del round il giocatore con forza totale maggiore ha vinto Puoi passare tendo venuto Y dopo aver passato il turno un po' di giocare fino alle carte fino alla fine del round L'avversario può continuare a giocare le carte picchiano e decidere a passare la sua volta Con le unità che hai già in gioco oppure quando riesci a lasciare l'avversario Il round finisce quando entrambi i giocatori hanno passato A questo punto si confronta Tutte le carte presenti nel campo di battaglia Vabbè, ok, torno dall'avversario Mortacci tua Tocca a me Se a lui gli capitano tutti i sei Sono uno in più, c'ho Sei, sei, cinque, il massimo Quattro, più da un culo Lui è molto forte sui balestrieri Ce ne metto un altro io allora Gli sto cagando in testa Di nuovo No, metto un altro balestriere Vabbè, ranged, insomma, a distanza Un altro assedio ha messo Lui non ha corpo a corpo Lui metto un altro corpo a corpo L'avversario ha passato Tocca a te Gli metto l'acqua nelle sue mutande Ah, ma vale anche per me però Vabbè, però lui c'aveva il vantaggio Quindi ho fatto una mossa a fai verde Ok La neve abbassava quella per Di corpo a corpo, giusto? Eh no, allora io passo Ho vinto Ah, dovevo, ho sprecato Dovevo passare il momento in cui Ho fatto una cazzata Cazzo Prendi una carta nebbia impenetrabile nel mazzo E giocala subito Nebbia impenetrabile Porca troia Perché ho sprecato tutte le carte, regà Non avevo capito Vabbè Ma Ma come ho fatto a vincere? Vincere Un attimo Mardio Cristo Due parecci e una vittoria Perché ha vinto lui? Ma che è sta merda? Gli posso togliere la cura a questo pezzo di merda Sicuramente me lo ricorderò Sicuramente me lo ricorderò Bella un botti Grazie per i tre mesi Grazie caro Vabbè Perché mi sta ronfando sto cazzo legato del merda? Chiedi a Nifarget Nifarget Le opzioni Richiedono l'uso del segno Axie Questo segno influenza la mente delle persone E le spinge ad agire Per incantare le persone Più testate Che altrimenti ti opererebbero resistenza Durante una conversazione Potesse l'abilità Persuazione E una schermata del personaggio Il senio di se dispiare Ha fatto una massaggi d'aria Ha fatto una massaggi d'aria Ha fatto una massaggi d'aria E' più grosso comunque il tizio Ma devo chiederlo solo qua dentro O posso uscire fuori Sì, cosa è, Wolf? Realize it's been half a year since we hunted down that fiend in Varun Yes, well that was more than a fiend What was that bastard's name? Drugan? May the soil lie light upon him Things used to be simpler Monsters were bad Humans good Now, everything's all confused Used to be exactly the same You've just forgotten Do well not to point up my age You're near a century old Cento anni See you later, Vesemir Ok, la freccia mi porta fuori Avete ragione Non ho visto i puntini bianchi erano il mio percorso Perfetto Tra l'altro io ragazzi non ho mangiato Ho mangiato un pezzo di pizza Alle due e basta Un pezzettino di pizza Ah Non chiamate i guardi And then fuck off Don't want your kind here Ho caffa a bote 3 contro 1 Oh, siete coraggiosi Provo a convincerli Che se non me questi qua sono troppo difficili da convincere Ce provo I haven't done anything to you, so just calm down. Course no. No, uh, he done nothing. Horses work in witchcraft! Get him! Your house is mine! Don't get up! Ah, porco due! It's me and you. Give me the shit to eat, piece of shit! Give me everything! Ah, ma hanno sderenato! Il gioco salva automaticamente i punti cruciali da storia. Ricorda però di salvare spesso e progressivamente questo... Questo mondo è pieno di monster sedati, di disangue, di banditi e molti altri pericoli e anche di bug. Ma questo non lo dice. Quella costa delle piantine che cosa mi indica? Delle piantine che posso raccogliere? Sì. Ma perché i witcher sono così disprezzati, ragazzi? Non aiutano le persone? C'è una sorta di razzismo questa roba. Ok, qua c'è una quest. Lì c'è la bachechina. Bacheche degli annunci. Geralt ha imparato a sue spese di tenere gli occhi aperti mentre viaggia, dato che ci si può imbattere in qualsiasi momento, in qualsiasi cosa. L'interessante è una damigiana dei guai, un mercante che vende cazzi. Tra gli eventi sono segnali sulla mappa. Va bene. Io voglio andare dal grifone, ragazzi. Come si fa? Il diavolo al pozzo. Ok. L'obiettivo è indicato da quello. Le missioni disponibili sono indicate da punto esclamativo. Quando... Qui puoi vedere il proiettivo delle missioni in corso. Ok. Qui puoi vedere una minimappa della regione. Ok. Questa è lilla e uva spina. Questa è la principale. Ehm... Bacheche degli annunci. Ok. Tutte quelle che ho preso? Devo leggere. Ah! Sono i punti interrogativi! Sono i punti interrogativi! Usi i filtri di visualizzare sugli oggetti di un certo... Qui trovi le statistiche principali legative al personaggio. Questa scheda mostra i componenti per l'aggressione degli oggetti alchemici. Qui troverei gli oggetti della missione e tutti gli oggetti che non rientrano in altre categorie. Questa scheda mostra cibo degli oggetti per utilia. Questa scheda mostra unguenti, possioni e cazzi. Questa scheda mostra armi e armature. Vuoi passare alla descrizione del CSAT e quella breve tenendo premuto? Ok. Come sarebbe addosso? Usando l'antemia puoi vedere il rispetto degli oggetti? Ok. Allora ragazzi, io ho un problema grave. Quando ci sono tante informazioni, me ne dimentico tutte. Gufo-fulvo. Perché questa non me la fa mettere? Ok. Ehm... Missioni. Sono queste, no? Contratti. Diavolo al polso. Sai che vorrei... io voglio fare questa. Anche se... Quella del... del cosa non c'è. Del grifone. Mmm... Ah, ok, Galo. Lo ammazzo nella quest principale il grifone. Ok. Allora andiamo a fare un contrattino. Andiamo a controllare. Poi inizia così. Con un contratto. Qua. Cominciamo. No, pari... No, pari... Ok. Non lo voglio fare io va il cavallo. Voglio solo entrare in questa cazzo di casa dove non vedo la porta. Ogni volta vado sul retro! Non lo so, però ragazzi, non si vede... Cioè, a voi si vede bene? Secondo voi si vede bene sto gioco? Perché non si vede al 200 mila per cento? Serve una mod. Andiamo. Assolutamente. Dice. Oh, questa volta è stato esattito già spent experience per 20 anni. 20? Perché non ci hai seguito già adesso? Perché prima volta abbiamo usato da sinistra. Ma.... Ma che sono molti corpi versi in me dopo l'attro raiadesi di nocciosto! Qui c'era su GOG il gioco eh Ah ma pure cristalline Dove la trovo di non nel pozzo Ho cascato il fantasma dal pozzo Ok EJ Grazie Non mi a udile E un banshee Parliamo della mia ricompensa Per chiedere una ricompensa più alta Scigli una somma Se la controparte accetta l'offerta l'affare è fatto Una richiesta troppo alta infastidirà la controparte Non tirare troppo la corda La controparte interroperà la trattativa Per due euro in più Lui è sto pure a rompercazzi Oh sono due euro ragazzi Un biglietto dalla metro Drive it off Please Che penso io non ti preoccupa Senti che c'è una sigaretta No ma dai Non puoi farlo qui Cosa Una sigaretta Oddio me ne ho fregato il cavallo Sapete che questo gioco è anche un po' asbro Vabbè lo giocheremo normale Ciao Rudina Cosa stai? Vieni qua Andiamo dai Allora questa questa Mi sa che l'avevo fatta pure quattro anni fa Perché ridete? Mannaggia dai Non è al mio livello Vabbè ma io sono bravo nei giochi Ricordatevi la memoria gaming Il mondo è pieno di giochi di interessanti Dove ne sono andata anche le storie Ok Allora Gente ha detto una cosa molto importante Eh la devo La devo uccidere una volta Però per avere il bestiario Giusto? Quindi la prima volta È blind Andiamo Allora È bruciata Quindi vuol dire che è debola al fuoco Debole al fuoco Quindi igni Oh sette fiorini Ma si riempie l'inventario regà? Io pio tutto all'inizio ovviamente Tanto è tutta roba nuova Cioè Beh Che è là? C'è roba Fammi passare Come passo? Dalla borsa del cavallo aumenti la capacità Grazie Wanted Come c'entro là dentro da qua? Devo sbragar a casa Aspetta Vi faccio un igni Ma non pia fuoco Come c'entro Cos'era? Avete sentito? Io non so Ho sbagliato tasto Arma d'acciaio Che me so preso? O spada d'argento? C'è un fantasma She fled But she'll be back tomorrow Something's keeping her here Io l'ho messo in culo Eh Aspetta Adesso ce l'ho nel bestiario quindi Chiavolo del pozzo Contro questo Contro questo Mostro puoi usare La stessa Gli abitanti di bianco fruttato Avevano avuto La loro buona parte Di disgrazi Fatto questo Avrebbe dovuto Prepararsi alla battaglia I vretti di urni Sono insidiose Ciegano gli avversari Li disorientano Proiettando immagini speculari Di se stessi Dalle illusioni Assorbono Il loro bersaglio Per sconfiggere il witcher Non poteva affidarsi soltanto Dalla sua spada Il segno yard Sarebbe servito Da intrapponere il vrette Nella sua forma materiale Sapete che la prima volta Che l'ho fatto Sono morto 500 volte Prima di capire Sta cazzata Nei giorni estivi Particolarmente caldi Quando il sole raggiunge Lo zenith A volte appaiono Dei vrette Nell'aspetto di donne Bruciate dal sole E con indosso Lunghi vesti bianchi Si tratta Dei vretti di urni Spiriti di giovani donne Ragazze morte Violentemente Poco prima del matrimonio Impazzite per il dolore O l'ira Vagano per i campi In cerca dei loro amanti Infedeli O delle rivali Traditrici Sebbene uccidano Chiunque non fugga Dalla loro strada Spesso sono trattenuti In questo mondo Da un oggetto Di intenso significato emotivo Per questo Se si trova L'anello nuziale A un velo strappato In mezzo a un campo Non bisogna raccoglierli Ma allontanarsi Il più velocemente possibile Che figata Ste storie Sul grifone Che c'è scritto Tra l'altro È debole A quel simbolo là Sì Mezzo aquila Mezzo gatto Proprio come Il suo sigilo Del lord Un tempo I grifoni Vivevano soltanto Sulle montagne più alte Dove cacciavano Marmotte e capri Selvatiche Col tempo Tuttavia Hanno realizzato Che la terra Abitate dagli umani Fornevano più prede Prede più abundanti E facili da catturare Mucche, pecore E pastori Queste creature Mezze aquile Mezze linci Ma non erano Ah un gatto Vabbè Sì era lince Ci sono trasformate Nel corso di pochi anni Da rarità Piaga Che infesse Regni settentrionali Specialmente Odiate Sono le sottospecie Come grifoni reali O arci grifoni Dovrei averlo preso Sono ubriaco Cazzo Un piatto Forse No Ma si fa A girare Il menu Dio cristo Non voglio Quegli oggetti La Forse È la bottiglia D'acqua Oh Cre Posso anche Non ammazzarlo Quindi il demone Posso semplicemente Liberarla Oh oh Ieri un cerito Ormai è fatta Volker ha inviato Le nostre lamentare Nel nord Delle corte Vittime Il primo giorno Libertà Madonna Quanta roba C'è da legge Ah queste sono le Ragazzi Vi prometto una cosa Non leggerò tutti i documenti Ce ne sarà tanta di roba da leggere Vero That bracelet Might be what ties the woman spirit to this place Blood stains Barely visible Someone was dragged this way Someone who was still alive Poi hanno ammazzato il marito Poi hanno ammazzato lei Hattori Happi che Occhio Quanto è così Azzese che c'è Ah Solamente no big Questo gioco ce l'ho avuto sempre qua L'ho sempre voluto recuperare Perché è uno dei grandi giochi che non ho mai giocato Scusate ma Là sotto c'è un mostro spaventoso Oh 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 Optima mater Che cazzo è quella roba Sali Ma Claire da Volker Claire Sì sì sto cercando l'oggetto Sarà questo Braccialetto del merda Sì ma Ma devo uscire dal pozzo Devo andare qua sotto Va bene l'edges Cos'è questa sensazione opprimente Eh Questa situazione da mon cadavoli Aspetta io da dove provengo La corona Questa situazione da Lunguento anti-bright Posso crearlo? Alchimia Bloccare formula e schemi Se desideri utilizzare un elenco dei componenti Di ingredienti necessari Per donna da formula Per uno schema Quando entri nel pannello del negozio Seleziona la formula Seleziona uno schema di creazione Una ricetta alchimica La blocchi Nel pannello del negozio Comparirei un elenco dei componenti Di oggetti che ti servono Un unguento anti- E quale cazzo è? Eccolo Antispettri Mi serve un'arenaria Ingredienti alchemici Mi serve un'arenaria Dove cazzo la trovo l'arenaria? Dai ce la faccio pure senza sta cosa Oh ma che cazzo me frega a me Questo è il corpo no? Aspetta Questa non è arenaria E' milto bianco Cazzo è l'arenaria? And the bracelet Igni Hey I think it worked Come on Hey I think it worked Yes 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 Then I Now After Now Stai nel tanteio, stai nel tanteio, strada! Porca di quella mignota! Oh merda! Ma andiamo se è un pezzo di pane e un altro pezzo di pane Mazza, oh questa è stata la prima missione, un parto! Aspetta, ho visto che dal cartello si può andare, si può tornare indietro saltando tutto, aspetta! C'è il viaggio rapido! Poggers! Però il viaggio rapido mi rovina l'esperienza! Perché, vabbè, ho schippato, stica, cioè vedi che ci sono dei punti non scoperti? Io potrei un attimino visitarli nel mentre che torno indietro Sìììì! Evviva, evviva! Giliam! Vui! V's Hubato, vabbè! Viv'll... Vabbè! Vabbè, vabbè! Mi serve la pelle Voglio farmi degli stivaletti Porca puttana Perché non riesco a pillarlo Ma Dio Cristo Oh Dammi la carne così non la compro Cazzo sto a risparmiare i soldi Porco tu mi danno la carne Chi è qua Cazzo vai Pigni Vabbè ma rotto il cazzo Cazzo Smocio la carne Posso fare il fallo per cucinarmela? Allora c'era un punto interrogativo vicino alla strada Vicino al percorso che devo fare No ho detto una cazzata Stavano qua i percorsi No no ho detto una stronzata Niente 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 Vabbè sono stato un po' un pepega Dai C'è troppo vento occhio Perché succede qualcosa? No ragazzi Allora Ovviamente il gioco è vecchio Ma so che se ammazzo le mucche Succede qualcosa di molto brutto Quindi non lo farò Senti Perché mi Allora ragazzi Capisco che Io bene Gli amo Siete bellissimi e fantastici Però se mi dite di non fare le cose Poi non lo gioco in blind Cioè Adesso Uno ragazzo mi ha scritto Di non Zari che mi ha detto Di non prendere i soldi Perché io non dovrei prenderli Perché io non dovrei prenderli Ma dai Stai tranquillo Tieni pure il denaro per tua figlia Loro che ho nascosto per la dose di Mandy Senza di te non sarebbe comunque vissuta Fino a sposarsi Ora almeno c'è qualche speranza Sì però so dei bastardi ragazzi Mi danno sta cosa sta scelta Sto peso sulla testa C'è da dire una cosa però Io ho fatto il bagno Nell'acqua del pozzo Che lui userà Per curare la ragazzina Quindi per esempio Adesso ci saranno Ci saranno Ci saranno le mie palle All'interno di quell'acqua Vito il mio sudore Cioè berranno Non è più pure cristallina Grazie Cobra Go Benvenuto Grazie Che mi ha dato Un ametista Ma vatten'affanculo Il diavolo Alla potta Come on Roach Ok una quest l'abbiamo fatta L'abbiamo iniziato In pompa magna Mo voglio andà A vedere i punti interrogativi Qua nella zona Voi andà qua Go sia Move it Aspetta sono dei Ghoul Che sono Che sono Come on Come on Ma me hanno chattato Sti fi di puttana Ma non è vero Non me la tira la magia Non tira la magia No la venutima difficoltà No ma ci riprovo Vaffanculo Ma io c'ho anni Di roba sulla schiena Che si fa? Oh porco dei due Mortacci due Una questione di principio Sono tre strozzi Porco due Fatti di acqua Grazie Olsovalo Grazie per i 14 mesi No ragazzi È una questione personale adesso Non me ne frega un cazzo Così almeno imparo Un pochettino pure il moveset Fammi anaggia un attimo una cosa Chi so questi Come si chiamano? Perché non ce l'ho? I droner Dove stanno? Annaggia la puttana Come on Dove stanno? Scudo protettivo Dove stanno? Grazie a tutti. Grazie a tutti. No! Figli di puttana! Ho tagliato a metà uno! Bella, eh, mbo! Grazie per i... 19 mesi. E quello? Madonna, raga, i peri sono troppo difficili comunque in questo gioco, eh. Finiti! Seta, alcol test, alcol test. Spada della brigata a veri red. Schema d'ardo a punta garda. Porta gli schemi artigiani con le vite giuste e farti fabbricare gli oggetti che vuoi. Che pitata! Fagina strappata. La bottiglia voda non la prendo. Che cazzo me ne frega? Ma questa roba qua? Che cazzo è? Ma, ragazzi, non mi dite che questi qui prendevano fuoco e scoppiavano. In tutto ciò, Eccolo, i droner, sono deboli al fuoco e a quell'altra roba. Somiglia a un cadavere ripescato dal fondo di uno stagno. È di un annoseante colore blu e verde con milma e fangheia che colano dalle palle. Per questo si pensa che spesso i droner, insieme ai loro cugini più pericolosi, vodnik e mucchi, cazzo è stava roba. Nascano dai morti in acque poco profonde, piandanti caduti in acquitrini. Ho capito. Se vado da Fabio io porto quella roba, quindi mi... Mi fa... Mi busta. Ok. Sono deboli al fuoco e al gingerino? Che vuol dire? L'equipaggiamento, bravi, brevissimi. Arma d'acciaio. Io ho tolto una spada d'acciaio. È più potente la mia. Perfetto. Mentre l'armatura... Più 7 mi dà. Resistenza al perforamento. Per così... Però è mezza rotta. C'è il 79%. Vabbè, però è già meglio, insomma. Beh? Devo portare... Gli oggetti al fabbro. Madonna, ma che cazzo? Sembro uno dei... Vabbè. Sembro coso? Ma che cazzo si chiama? Benigni. C'è il film che è ambientato nel 1600, 1500. Ci resta che piangere, esatto. Non ricordo mai i dettagli dei film, ovviamente. Go, go. Beh, ho capito. Va, fammi scendere. Dai, Rutile, si può guidare. Allora, il fabbro dovrebbe essere quello col simbolo del martello. Eccolo, lo sento. Però non c'è il martello. C'è un martello qui? Oh, ho un po' più caldo la notte, quindi ho setto il fuoco per la mia forza. Ho un buon ritorno. Ho ritorno di un po' di ritorno. What do you think happened, dimwit? Some bugger set alight me, me workshop. I've lost everything. Everything! Dovr insultarmi. Sorry. Any suspects? Whole damned village. I've left here half a century. Thought they saw me as one of their own. But everything changed when the black ones came. I'm the only smith around, so I got to serve as their garrison. Bang, dance out of plate. Shoe horses. That's what I thought. That's what I thought. That's what I thought. Vanno tutti attenti, c'è concorenza. That's what I thought. That's what I thought. No, the guardians don't pay me a blood of copper. Just give me supplies and orders. But humans can't faddle them that. They think I'm getting rich after their misfortune. That I sleep on a pile of gold like a plowing dragon. They've stopped talking to me. Spit when I pass. I can find your arsonist, provided you're willing to pay. I've not much left, but I'll give you all if you bring me that horse in. He gets what he deserves. The night of the fire, I heard movement outside my hut. Went out to see if I could find any tracks. But found nothing. But then I haven't got cat eyes, have I? Good luck. I piromane. Ma... Ma è bassissimo questo fabbro. Ma è un nano? Wonder which of the clever buggers to the pill teachers? Sto seguendo la... I sensi di The Witcher. E che cazzo vedo qua? C'è niente. Aha. Che lo aiuto quindi mi abilita il fabbro lì, vero? Stinks of piss. And vodka. McQuindy? Good luck. Good luck. May the sun shine upon you. The kings do the fighting. But... We're done with the bread today. We're done now, though. ha coperto le tracce è questo qua forse quindi ma scusa è stato trasformato in una barca da un incantesimo è lui eh ragazzi the witcher oh altri droni sono i miei nemici numero uno ma perché li devono così tanti soldi non li fate facendo le missioni si trasforma adesso è un nano condominato quanto mi paghi? non se ne parla avrei con me d'accordo ma basta incendi si può fare sesso con lui? ah scusate ma ci sarà qualcuno che non si fa influenzare da me? impossibile troppo sexy beh su sky mi ricordo che se non eri cioè già all'inizio facevi fatica anche su fallout a convincere le persone facevi abbastanza fatica ah ok quindi dice che sei già witcher da diverso tempo quindi hai già una certa esperienza beh in skyrim sei un dragonborn sei l'eletto ah bastava andare così dai no Frank se lo continuiamo non ti preoccupare ho lunetti se continuo what's going on here you go one village pyromaniac in the flesh nap you and you your mom for years charged herneria coppa this is how you repay me I've had enough hey soldier a minute of your time please no Willis I beg you I was drunk didn't know what I was doing I've told you master Willis we will help you rebuild once reinforcements come the supplies have been ordered not what this is about mate this here's the arsonist a witcher found him the forge was important to the garrison destroying it was sabotage no trial needed here just a tree ma chi sale fu la godo che lo piccano but enough about that che cazzo tanto era un coglione and I managed to save some things from the fire anvil still hole so I'm sure I can bang something out on it you need anything let me know give you a good price oh io poi non penso non penso ci siano scelte sbagliate o scelte giuste ok ok allora allora ehm al meglio la fabbro e così via per il tipo di oggetto che vuoi chierare non ti deve essere abile abbastanza per chiare oggetto che desideri progetti si possono smontare per ricavare nuovi componenti di chierazione per smontare l'oggetto vedo un'artigiana eccetera e la schermata smonta che figata il problema è che io ho dei progetti però corazzo giacca di cuoio da guerriero più 8 rispetto a quella che già ho io ed è nuova 39 euro non li ho tra l'altro vuole cuoio conciato pezzi di cuoio e filo resistente allora quanto tocca farmare che bello farmare che bello quindi lui non mi fa la roba che ho trovato i progetti che ho perché è un coglione io ho questa roba qua no ho questi schemi una volta letto le informazioni saranno conservate aspetta no forse li devo leggere ah no questi li vende lui ok arrivederci e grazie dove sono i miei dove sono i miei ah mi direzci in ok lascia perdere spenderanno ora fino al dragone e poi penso a farti le spade infatti no volevo soltanto capire se quei progetti che ho trovato si potevano utilizzare allora andiamo nella principale a questo punto andiamo da lì là e uva a schiena che dite no non me l'ha fatto lo scontrino vabbè ma inutile farti queste armature costano troppo e non valgono niente aspetta i set da the witcher va bene grazie la cosa più bella di una delle cose più belle di twitch è sempre stata quella che quando tu fai un allora quando esce un gioco anche vecchio voi potreste vedere quel gioco più volte rifatto da più persone perché ognuno lo gioca a modo suo adesso lo sto giocando a modo mio magari l'avete visto un tempo fa da qualcun altro che l'ha fatto a modo suo cioè ognuno lo fa a modo diverso questa è la cosa bella della differenza di gameplay cioè nel senso voi dite vabbè ma è sempre lo stesso gioco no in realtà cambia in realtà il gameplay cambia nonostante sia lo stesso gioco ed è una delle cose più belle su twitch per questo vorrei ad un certo punto poter rigiocare anche god of war che è uscito per pc e recuperarlo più avanti per questo magari quando uscirà elden ring magari me lo recupero per cazzi miei più avanti non lo faccio direttamente non lo so vediamo livello 5 merda madonna ma che sei matto alcol test glifo di hard minore unguento minerale pelle di maiale polvere e polvere boh la polvere poi vedremo che cazzo bisogna farci carne buono grasso di carne grasso di carne non mi stavo uccidendo ma che sei matto monca giga questa vita mi toglieva ah ok edward no dash non farò tutti i go no ragazzi l'ultimo god of war quello che è uscito per pc che era uscito per ps5 eccoci ho come l'impressione che adesso mi diranno se ci dogli da mezzo al grifone noi ti dammo una mano un esperto di problem solving ma un po' meno non credo Franks no ecco Yavuz non credo mi piaccia anche se Dario dice che secondo lui potrebbe piacermi non lo so gli artigiani possono creare per te un gran numero di oggetti in cambio di denaro ovviamente i fabbri forgiano le armi gli armarioli costruiscono armature se trovi uno schema eccolo chi cazzo è Fidelio i cocchiali c'ha come lo rubai sto prendendo le erbette li sono loro potresti forgermi qualcosa dove sono i progetti sono questi madonna quanto costa tutto rega 22 c'ho 23 euro ancora ma non c'ho ne euro grincano delle bollette è vero sono io sono andato a vivere da solo nel momento in cui sono aumentate i bolletti ok ma perché c'è un grosso problema di soldi in questo gioco davvero una logica inattaccabile una logica inattaccabile faccio indovinato giuro gamet si sono in blind ma è normale che ti dicono tu devi fare una cosa per me e io ti aiuto a risolver il problema una particolare erba mi serve l'erba più informazioni è che questo sesso fa sesso col grifone pure volendo poi ma da mi deve andare da meno sto lato sping cervino che cazzo è ciao claudio hands up kill them no first came idios don't play with fire for example go to tomira an herbalist she lives near the crossroads she will aid you ah ma qua c'era un problema con la webcam vedi era da girare così stavo a guardare il gioco va bene devo andare da tomira e da miroslav ovviamente andrò a prendere entrambe le cose quindi ragazzi chi sono i più buoni i nilfarghidiani o chi altri sono e chi altri madonna la bestia del bianco frutteto questo è miroslav ebbè sta destrata scusa vado da lei ok a cavallo vi è qua qua ah ma ha saltato il pulminello orchi ci hanno tirato tirato i lacrimoggi questa è una citazione di una roba su youtube con lei posso fare sesso? che è successo? bravissimi che è successo? che è successo? che è successo? non che è successo? Grazie. Sembra la storia di ieri di Fabiosa. Ce l'avete presente? Ciao Valentina. C'è Gabriele? Però che palle. Questo mi rompe il cazzo. Con sta missione. Non posso non farla. Sto qua. Carico prezioso, eh? Run, Roach. Ma ci stanno dei lupi. Ma il pavimento ma tipo se l'è divorato. Che cazzo vuol dire? Cazzo vuol dire? Cazzo vuol dire? Roach. Ssus. Porca puttana! Ma vaffanculo! No di nuovo si stronzi Livello 4 Porco de due Pezzo de merda E l'amici tua Grazie Valentina Grazie di tre mesi Oh porco due Oh questo ha preso bene Mamma mia Io non ho detto Quanto cazzo godo Mi sto imparando a giocare Visto Mi serviva solo un po' di tempo Piano piano Tommy Tommy Ok in questi giochi Ho sempre adorato fare le ricette I pasti Sui schemi Mi ero fatto certe combo assurde Devo trovare il carico Giusto Sarà questo Acqua ducale Fiori Polvere di stamme Come fricce Oh oh E dove devo cercare Torna al nido delle api E dagli fuoco E dagli fuoco E dagli fuoco No 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 Allora devo guardare con i sensi di ragno Se no non vedo un cazzo Eccolo Quindi Quindi C'è stato un combattimento Dov'è cazzo sta scatola di merda Eccola Susci Ma Io posso aprire la cassetta e fregargli la roba dentro Così da fare il fi di puttana Oh and you find the box Yeah Found your priceless chest And someone who looks an awful lot like a cart driver With an arrow through his neck No dryads in these swamps And never known a drowner or a waterhack To use a bow So lacking any other suspects I'm guessing Watch out Behind you There's nothing behind me I'm a witcher I'd have heard it Just like I can hear your heart Witches pounding Like a liar's Best hope you're a better writer than you are a liar I'm a witcher Yeah I've had a rat ma che è successo? Eh? È scivolato? Ti porterò da Nilfgaardiani, d'accordo, va pure, sei libero di andare ma la medicina resta con me È una medicina? Allora, se lo porto da Nilfgaardiani sono una spia, uno snitch Se lo lascio libero e si porta le medicine, sono una brava persona in fondo Se lo lascio andare ma non gli do le medicine, sono matto Io c'ho bisogno dei sordi, per me puoi pure morire Su che mercazzo, togliete qua la cuffietta Mi daranno un voto di soldi, no? Datemi i sordi È lui, è il tuo ordine di niente Sì, sì, qualche soldina, dai, un cent'euro Interessante Bella palla, grazie per i 25 mesi 30 euro Buone Eh? Eh... La carne, come la cuoccio? Bebe Bebe Per Cibo rigenera la vitalità Non serve cuocerla Non mi serve un cazzo Ma che merda perché Ma posso fare le combo però C'è l'alcooking Solo le pozioni Non posso fare No dai Fra 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 sei un wizard Ma che cooking Ho capito Ma vorrà mangiare questo cazzo Ma mangerà qualcosa Cazzo È una delle cose migliori del mondo La cucina Il mangiare È una delle cose migliori del mondo Da let's go Alla al giudicare era come siamo entrati secondo me no niente non era un commento così con le donne lui invece di farsi pagare in denaro può scegliere un'altra ricompensa di solito non lo dico da maschilista eh lo sto dicendo da uno che sta capendo il gioco no beh anche psicologo adesso la best del bianco furietto mi ha dato delle ditte per cercare quei cazzo di cosi eh ok va bene ragazzi abbiamo fatto una prima infarinatura sono le 20 si cambia registro è è